È stata complicata, al di là del risultato finale che vede un risultato un po' largo, però è stata veramente molto difficile, bisogna dar merito a una squadra avversaria che ha avuto tante palle e gol. Oggi credo che Lullo ha dimostrato di essere uno dei portieri migliori in circolazione per queste categorie, credo che un gran merito del risultato va a lui e alla convinzione di tutta la squadra di fare un risultato positivo. Ha un bilancio ottimo perché chiudiamo al terzo posto per i punti con il Mola quest'anno solare ed è importante perché i ragazzi anche oggi avevamo delle mancanze importanti, soprattutto di Giorgio che speriamo di rivedere il prima possibile, sicuramente tutta la squadra dedica a lui la vittoria, speriamo di riaverlo presto con noi. E poi avevamo Zingrillo, Quacquarelli è uscito subito, preziosa, quindi avevamo un po' di acciacchi, però chi ha fatto la partita si è fatto trovare pronto ed è un segnale importante per tutti quanti.